Con una vastissima presenza di espositori e visitatori che si sono ritrovati in presenza dopo la ripartenza post-pandemica, è stata inaugurata questa mattina a Piacenza Expo l'ottava edizione delle giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali, la prima mostra convegno dedicata al comparto a livello europeo. Il GIS è la più grande fiera europea, lo siamo ancora di più, adesso tendiamo a diventare la più importante. 41.000 metri quadrati nei quali oltre 400 espositori tra italiani e stranieri offrono una vetrina privilegiata sulle nuove proposte e le innovazioni tecnologiche. Moltissime aziende, se non dire tutte le aziende, presentano al GIS tutto il risultato di questo sforzo intellettuale, quindi di progettazione di macchine, sono molte macchine nuove, addirittura in anteprima mondiale. La novità dell'ottava edizione è il GIS by Night, uno speciale calendario serale dedicato agli espositori e ai loro ospiti. All'interno dei padiglioni della fiera saranno infatti collocati i rilassanti punti di ristorazione tematici e di intrattenimento musicale. Sollevamento vuol dire movimento, vuol dire commercio, vuol dire sviluppo, e naturalmente abbiamo sempre quello che è la punta di diamante per il discorso economico e soprattutto a livello di territorio, che io mi sono sempre ripromesso di portare sempre più gente sul nostro territorio per far girare la nostra economia.